Mobilitazione ed iniziative se il confronto previsto per il prossimo 12 settembre tra le organizzazioni sindacali e Sei Toscana non otterrà risultati soddisfacenti dopo che l'azienda proceduta ad un vero e proprio licenziamento nel periodo estivo nei confronti di centinaia di lavoratori precari motivando strumentalmente tale scelta come conseguenza dell'approvazione da parte del governo del cosiddetto decreto dignità ad affermare la CGL Toscana assieme a Nidil, la funzione pubblica CGL e la RSU di Sei Toscana, il gestore del ciclo dei rifiuti per Ato Toscana Sud che copre 104 comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Il sindacato esprime attraverso una nota l'assoluta contrarietà al ricatto perpetrato da Sei Toscana e chiede che si arrivi quindi al più presto ad un accordo che leghi piano industriale, dotazioni organiche, percorso di stabilizzazione, in modo da garantire qualità del servizio e del lavoro e affinché sia prevalente l'utilizzo di contratti a tempo indeterminato. Per la CGL sono gravi anche le responsabilità politiche di Ato Toscana Sud rispetto ad una mancata programmazione e ad un solido piano industriale. Il sindacato è infine già annunciato per il prossimo 11 settembre due ore di volantinaggio e un presidio nei pressi dell'azienda il giorno successivo in concomitanza con il confronto azienda sindacati.